Il Festival ci ha voluto essere anche quest'anno, 73 anni consecutivi, anche quest'anno così difficile abbiamo voluto esserci e l'appuntamento è veramente per una prossima edizione finalmente nella piena normalità a quale siamo abituati e che tanto ci manca in questo periodo direi. Devo dire che è un momento di festa e di soddisfazione e aggiungo non è retorica mai come quest'anno veramente, tutte le compagnie sono vincitori quasi in execo perché è stata la vera vittoria quest'anno essere riusciti ad andare in scena e aggiungo anche da direttore artistico con orgoglio che il livello delle proposte è stato veramente elevato non era scontato perché quest'anno molte meno compagnie del solito sono riuscite a proporci i loro lavori, abbiamo scelto i lavori al Festival da un bacino di circa 50 contro i 130-150 soliti, ciò nonostante le proposte sono state molto valide e quindi c'è stato grande apprezzamento da parte del pubblico e quindi non possiamo che essere veramente contenti per il ruolo che ancora il nostro Festival ha come punto di riferimento di un movimento così straordinariamente ricco qual è quello del teatro non professionistico che c'è in Italia La manifestazione di oggi è stata una manifestazione combattuta tra diversi sentimenti, quelli della festa per una manifestazione che si conclude con le premiazioni per migliori attori, attrici, registi e così via e quello del timore di non riuscire nei prossimi mesi forse chissà per quanto tempo da parte delle compagnie amatoriali a rappresentare i loro spettacoli per i quali magari si sono preparati per mesi e per anni è veramente una situazione difficile per tutta la cultura in generale e per tutto lo spettacolo dal vivo in particolare, dal teatro professionistico a quello amatoriale ed è una cosa alla quale anche i nostri governanti dovranno pensare, cioè come potranno sopravvivere queste iniziative culturali nel nostro paese Quest'anno già la partecipazione ha avuto un senso particolare perché venire da una regione che negli ultimi tempi sta praticamente vivendo come tutta l'Italia ma soprattutto come regione in momenti molto delicati non è stato facile quindi per noi è stata una testimonianza, poi addirittura vincere questi premi e vincere il primo premio oltre alla regia e alla migliore attrice giovane è una grandissima soddisfazione Uomo e Galantomo è un lavoro di Edoardo De Filippo, è un classico che con la mia regia e con la collaborazione degli attori abbiamo messo in scena in modo diverso da quello di Edoardo quindi tentando anche una scelta coraggiosa, è un autore della nostra terra, della Campania ci teniamo molto al fatto però noi di Teatro dei Dioscoli che non venga messo in scena nella maniera classica perché sarebbe semplicemente tentare di imitarlo ed Edoardo è inimitabile, invece diventa attuale, diventa moderno come è il testo Uomo e Galantomo proprio nella misura in cui si fa una scelta coraggiosa di una messa in scena completamente diversa da quella di Edoardo devo dire che la partecipazione a molti festival nazionali e soprattutto aver partecipato e vinto Pesaro che è il festival più importante che abbiamo in Italia per le compagnie non professionistiche ci ha dato una bella conferma, quindi ci fa continuare in questo nostro percorso di ricerca teatrale, di tradizione ma anche di tradimento della tradizione